Mamma mia, Seraphine, che bidone dell'umido. Ho fatto un sacco di assist. Ammazzo tutti, tutti quanti, mami, hai onchiato la kill finale. Ho messo l'auto aim della Ward e l'ha tirata in mezzo alla lane. Va bene. Ok, cioè, refrain from playing MF soltanto perché io dico che non è un buon di carry o perché a me non piace, cioè. Gioca quello che ti piace, se poi ti funziona e ci vinci le ranked è tanto meglio. Sì, credo che forse in rank più bassi la ulti di MF sia veramente forte se è usata a dovere, mirata sulla Dragon Pit magari. Il ruolo preferito è mid, assolutamente. E il secondo è ad carry perché i champion, in realtà, cos'è? Che mi piace il ruolo del mid? Io giocherei gli ad carry mid, se potessi scegliere. Perché gli ad carry sono il tipo di campioni che mi piacciono di più insieme ai maghi d'artiglieria e però non mi piace giocare in due lane. I miei ruoli preferiti sono top, mid jungle. Ah, vabbè, la mid è meglio da top però di persona. Abbiamo già perso la pink. Preso. Da me mi picchiano. Non ti preoccupare, capa in su mi ora. Oddio. Oh, perso il minio perché sono un pedale. Bello l'ingage su di te. Sì. Ma non ho fatto a metà vita. Sì, vabbè, perché è forte, però se mi facevano di me era un problema più grosso. Ok, lui va bene. È molto bravo, è molto alistro. Niente. Riesce perché è questo così? No, vabbè, basta, basta bene così. Sì, il problema è che per fare il cambio cosa ci ho messo una vita. Ho l'iPad a 120 fps, la luminosità al massimo, le prestazioni tutte al massimo, loro che mi stunano. Oddio. Bello, no, mi piace Riot, apprezzo. Riven sale. Quindi mi stai dicendo che è a Riven. Sì, è qua. Vedi, non si scambia. No, cacchio, questa ci uccide. Double kill. Io mi sa che mi salvo. No, io sto rosicando, però. Cioè, Riven ha flashato stannandomi? Stannandomi? Mentre l'altro prendeva la torre. Quanti erano? Cioè, va... Oh, Alistar muore, forse. Ti prego, ma co... No, 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 no. No, ti giuro i miei occhi che cosa hanno visto. Oddio, però lo prendo. Ti prego, continua a correre Alistar. Ti prego, continua a correre Alistar. Sotto la torre. Non ci credo! Allora, Lucian, vabbè, sti cavoli, perché non l'avevo previsto, ma... Quello che cambia strada. Ma sì, sto correndo verso la salvezza con la strada più giusta che posso fare. Cambio strada, così, a caso. Possiamo farlo, possiamo farlo. Stunna quel coso. Stunnalo! Ok. C'è la mucca. Mamma mia, Serafin, che bidone dell'umido. Cioè, manca un attacco base ha dato. In teoria non possono entrare. Io metto... Oddio, attenti, Riven. Ult, Riven! Buono. Riven, 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 Riven. Perfetto. C'è l'attacca. Sì, sì. Vegar mi ha lasciato con HP. Ha ultato, Vegar. Buono. Perfetto. Bene. Ho fatto un sacco di assist. Riven non so dov'è. Questo è mortissimo. Ult. Ti penso a Nick. Riven è sotto. Insomma, era meglio devarlo e fa la torre. C'ho l'exo... Oh, cavolo. Pazzo. Vai che è morto, vai che è morto. C'è Nick, c'è Nick. Fatevi la torre, fatevi la torre. Sì. Puscia, puscia. Vediamo che se la fanno sotto. Ci possiamo provare, zio. Forse ce l'ha fatta, forse. Non so. Lui c'è reset. Ce la facciamo? Sì. Eh, let's go. Come ti sembra... Come ti sta sembrando con il Kraken? Forse l'hai già detto? No. A me piace, a me piace zerco il Kraken. Tanto, cioè, non è che prima, sai, Oddio, il Conqueror mi faceva fare queste grandi azioni, super belle. Invece avere quel piccolo burstino di damage in più un po' più spesso è stracomodo, anche per i trade e per i POC. Mi piace. Sto arrivando. Sto arrivando. Bella sta ulti jumpy. La mia, io ho pensato che loro scappassero, lì invece no. Perfetto. Sto morto. Io cerco di uccidere, e io ammazzo l'ultimo. VEGAR MI'A SHOTTAT. Ammazzo tutti, tutti quanti, ma mi hai onchiato la kill finale. Nick, starei girando un potenziale video YouTube. Potevi lasciare a me. Il Lady Lusian che si stava uccidendo pur di tentare di uccidermi. Invece no, lui con Darius sente solamente il sangue dei nemici. Vabbè. Riparto. Oh no. Adesso pensano che nei video mi faccio la sale kill. Che c'è dappri. Che meme. Uri uomo. Basta con ste palle, te. Capite i gusti, i gusti. Però, cioè, mi stai flutando. Ti faccio aggraviare gusti. Ma non funziona così. Ma poi cosa dici? Ma ci dissociamo. Riot, please. Su, tu, 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 tu. Viene qua. Ah, J-Flash. Oddio il bait. Sono il capo dei bait, zio. Baito così duro, ma così duro. Io sono morto. Dove sono le mie palle? No, no, no. Alistar, no, no. Cioè, ho baitato durissimo. Sono stato fortissimo. Ottimo teamfight. Bravo. Pelato, col cerchietto. No. Arriva Kyle con l'ulti super molesta. Che palle. Però, Ward. Ward. Sono morto in tre. Sono morto in uno. Quick Math. Uno minore tre. Tre. Quanto è? Tre. Easy. La rana. Il mio nemico. Ma perché? Cioè, ho messo l'auto. Stai buono, tu! Ho messo l'auto aim della Ward. L'ha tirata in mezzo alla lane. Va bene. Erano tutti. Ah, mucca. Ah, mucca. Vieni qua. Poco si è brutto. Arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva. Sì. Presa, presa, fratelli. Presa. Perché sei cerchiettato. Finiamo, finiamo. No, vabbè. Can we actually end the game? Because someone was asking me. But then I was like. Oh, come on, dude. Arrivo, ok. Sì, sì, arrivo, 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 arrivo. Tirato una... Oh, arrivo! Arrivo vuol dire che mi sto dirigendo nella tua direzione al fine di venire da te. Non so se fosse chiaro. Non è chiaro. Eh, te lo so che non è chiaro. Raga, ecco ne è colpa mia. Lasciami le palle, no! Ma c'è sempre le palle in bocca sto game, raga. Non lo giudichiamo assolutamente. Ognuno... Ognuno prende tutte le palle che vuole. Tutte le palle che vuole. Prendi le palle. Prendo le palle. Questa è palle. Ma presi? Prendi le tue palle, ho capito. Mamma mia. I have no... I have more damage than Lucian. Eh, too strong for polizia. Qualcuno gli scriva... I am best di carry... Urundi. Eh, ragazzi. Giampi all'anno è troppo forte come di carry. Oh, cavolo. Oddio, c'è un loro... Oh, cazzo. Vabbè. Buona. Via, via, via. Via, via, via. Ecco, sta spuscando. Ma dai, quella mia... Arriva. Io me l'ho proprio accorto, raga. Non... Va bene, ma va bene così. Va bene così, adesso... Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Siamo too strong for polizia, adesso vinciamo. Tanto c'è Lucian che ha tiltato. L'ho fatto... Cancellato dall'esistenza! Sooo! Sooo! Zonja in the end! Come sempre! Non mi serve Nidin Fight! Easy Gary! Jumpy! Ezreal Kraken! Troppo, troppo bello! Troppo potente! Continua! Premo un altro tasto, andiamo a vedere? 84,9. Mi sa che l'MVP non l'ho preso io, ma l'ha rubato Darione. No, l'ho preso io! Darione ci ha provato! Voleva l'MVP! Pensava ad essere più forte del Jumpy Alleno. Ma non lo è! 10-2-7! Guarda le bandiere! Sono più bandiere dell'ONU! Sììì! Ma non lo è... ...